Ciao a tutti ragazzi, da Zebra. Appena terminata la partita da Roma e Monza 1-0, ma questo video è direttamente dedicato al mister Allegri. Allegri, Allegri, sveglia! Sveglia Allegri! Hai visto come si gioca a calcio? Allegri, devi prendere le partite di Palladino, che allena il Monza seppur non sai, e devi vedere come fa a giocare le sue squadre. Una squadra che praticamente ha giocato per quasi tutta la partita in 10. In 10! E ragazzi, non ha mai smesso di giocare a calcio. Non ha mai smesso di giocare a calcio. Non si è difesa. In 10 il Monza non si è difeso, ma ha giocato a calcio. Ha creato pericoli. Ha rischiato anche di vincere la gara. La Roma, ragazzi, per l'organico che ha, per me gioca da scandalo. Ecco, Murigno è come Allegri. Scandaloso! Una squadra scandalosa. anche se ha avuto le sue occasioni. Ha preso due padi. Il portiere del Monza, oggi, Spiderman! Ma non è oggi che lo scopriamo. È un buon portiere. E la Roma è stata anche sfortunata sotto porta. L'espulsione di chi era? L'espulsione, non mi ricordo di chi era, ma comunque per me c'era. D'Ambrosio. L'espulsione di D'Ambrosio per me c'è, perché D'Ambrosio è andato in maniera troppo eccessiva. Soprattutto in una zona di campo dove non serviva a fare quell'intervento. E ha lasciato per cado il Monza in 10. Ha fatto protesta, hanno protestato. Ma ragazzi miei, quello era doppio giallo d'espulsione. Quello era fallo. Anche se in TV hanno detto Eh, ma non c'era la pericolosità. Bisogna vedere se è stata fatta in una posizione di campo in cui non era, non era. Ma non mi interessa. Quello era fallo, da giallo. Punto. Per me l'arbitro Eroldi ha fatto benissimo. Sul complessivo partito, ragazzi, è stata una bella partita. Combattuta. Ma questa partita l'ha resa bella il Monza. L'ha resa bella il Monza perché in 10 potevamo vedere un tutt'altra partita. E invece il Palladino tramite le trame di gioco idee lavoro questa squadra la fa girare che è una meraviglia. È una meraviglia. E tu, cara Lega, che prende più di oltre 7 milioni di euro di mortacci tua non uscirai mai e dico mai a far giocare una squadra così. come la fa giocare Palladino. Eppure la Juventus ha dei giocatori che il Monza si sogna. Il Monza non potrà mai avere il fiorfino di giocatori che potrebbe potenzialmente anche avere la Juventus. Tu ti permetti di fare un cazzo come allenatore? Cioè, di te proprio non c'è nulla. Non c'è nulla. E oggi la dimostrazione che un allenatore che ha idee è capace che è capace con poco fa molto molto. E tu è questa dimostrazione che tu non hai capacità di allenatore. Non hai capacità di amalgamare una squadra e dare un gioco. Tu e oggi Palladino ti ha dato lezione lezione di calcio. Anche se ha perso per me non meritava la sconfitta. Anche se la Roma ha avuto le sue occasioni. E poi il Chalau si è trovato il pallone là l'ha buttata dentro. Ma per me il pareggio è occhio è occhio. Le occasioni nel secondo tempo in dieci il Monza le ha avute nitide nitide costruite tramite un gioco caro Allegri voglio vedere questa sera tu che cosa farai questa sera come giocherà questa Juventus stasera. Sui giornali hanno scritto serve un'allegrata serve un'allenatore vedremo che cosa ti inventerai che cosa ti sei organizzato per controbattere la parte offensiva la squadra di Pioli. Vedremo ma intanto Palladino da lezione di calcio ditemi la vostra iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima un saluto da Zebra ciao